Tre nuovi posti di terapia intensiva e reparto di TI post-operatoria che sale da 4 a 7 letti. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II continua nel suo piano di implementazione delle sue attività nell'ambito del programma di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale prevista dal cosiddetto decreto rilancio. Una serie di interventi per un costo complessivo di 1.159.000 euro ottenuti anche grazie all'accordo quadro in vitalia. I ventilatori polmonari invece fanno parte degli acquisti compiuti dalla protezione civile durante l'emergenza Covid. Assieme ai nuovi posti letto di terapia intensiva post-operatoria sono stati realizzati anche due posti di terapia sub-intensiva in ematologia, un ulteriore passo verso la nuova unità trapianti, pressione positiva per i trapianti allogenici e tre stanze per il trapianto autologo. A tutti questi interventi si aggiungono anche quelli di potenziamento della radiologia diagnostica. Puntiamo ovviamente al risanamento da un punto di vista non soltanto contabile e finanziario dell'istituto ma finalizzato anche all'aumento della produzione. La produzione è espressione di un aumento quantitativo ma soprattutto qualitativo correlato alla ricerca scientifica che questo istituto intende con tutte le proprie energie raggiungere grazie anche al contributo di tutti i sanitari e gli amministrativi che hanno consentito questo passo in avanti. L'obiettivo di tutti questi interventi resta sempre quello di ridurre la mobilità passiva consentendo una migliore cura qui in Puglia anche di quelle patologie oncologiche ad ampia complessità che spesso costringevano a ricorrere a cura e fuori regione. Attualmente a parte casi diciamo di particolare complessità che ragionevolmente vengono trattati in ospedali che hanno una particolare attitudine per determinati tipi di tumore noi siamo in grado in Puglia di curare ordinariamente tutti i nostri pazienti senza necessità che vadano fuori e questo ovviamente fermo restando la libertà di ciascuno di scegliere l'ospedale dove farsi curare perché queste malattie ad alta complessità prevedono la libertà di ciascuno di farsi curare ovunque.